Attenzione verso l'universo femminile ha cambiato radicalmente il senso e l'uso di molti oggetti rivisitandoli nelle forme e nelle funzioni. Il tabù del benessere sessuale è stato finalmente sfatato e uno dei principali fattori di sviluppo è stata la crescente domanda, soprattutto da parte delle donne, di miglioramento dell'esperienza sessuale intesa come benessere psicofisico. Le donne rappresentano il 50% della popolazione, eppure sino a qualche anno fa erano poche le aziende tecnologiche interessate alle loro esigenze. Nel 2016 un'imprenditrice danese conia il termine FemTech, Femal Technology, intendendo un insieme di software e di prodotti incentrati proprio sulle donne. Il mercato varrà entro 2025 50 miliardi di dollari e sarà sempre più inclusivo, accessibile e diversificato, un cambiamento epocale insomma. Il trend è esploso soprattutto durante la pandemia e la carta vincente è stata quella di associare il piacere sessuale al benessere olistico e alla cura del sé. Il design va alla ricerca di soluzioni nuove con materiali e tecnologie e cromie e con questi presupposti le designer di Amean Design hanno disegnato per Majoie, una startup nata dall'intraprendenza di giovani imprenditrici tra Parigi e Berlino, degli oggetti genderless, ecosostenibili, di un alto contenuto di design eleganti e raffinati disegnati proprio per le donne. Majoie è un nuovo prodotto di Slim Arnes innovativo che consente di vivere un'esperienza di coppia con gioia. Partendo dall'analisi dagli studi fatti ci siamo resi conto che i prodotti in commercio hanno una visione e percezione molto distante dai bisogni delle persone queer. Da questi presupposti e con la collaborazione delle fondatrici abbiamo cercato di ripensare i sex toy con un brand che sappia ascoltare e capire i veri bisogni di chi li usa. Dall'unione di moda e tecnologia nasce un nuovo sistema Majoie, unico e sofisticato, tramite un meccanismo studiato ad hoc permette con una baionetta magnetica di indossare gli accessori con un semplice click. Sappiamo che la taglia unica non si applica alla sfera intima e che ogni corpo ha la sua unicità, per questo sono stati progettati diversi accessori, tutti intercambiabili e utilizzabili. Nel dettaglio è stato sviluppato il dildo realizzato con diverse taglie e un nuovissimo stimolatore clitorideo morbido che avvolge e stimola per sfregamento. Il materiale scelto è un silicone speciale con un trattamento superficiale soft touch che rende morbido gli oggetti. Le cromie selezionate sono ispirate al mondo della natura e aiutano i prodotti Majoie a essere iconici e leggeri. Grazie a tutti.